ecco mi mancava solo un piano pelu con in versione reg poi direi che cosa potremmo aggiungere può fare tutto quell'uomo lì io vi ci aggiungo uno 007 stamattina in seguimento a matera ci avete presente ci hanno detto che hai appena fatto un viaggio assolutamente interessante sì c'erano delle code pazzesche in autostrada ma meno male dai ma tu hai messo la testa fuori ho detto sono pieno fatemi passare ho tirato fuori le macchine come le acque mare ho tirato fuori le eliche del drone e sono volato da voi grande appena le vostre braccia ma quanto siamo contenti di averti qua e anche io lo sono guarda era l'ora che ci incontrassimo senti hai dormito bene i vostri studi hai dormito bene che so che sei un po insonne allora io dormo male mi sveglio peggio poi dopo ci sono le code in autostrada però ieri ho fatto una cosa bellissima perché sono andato a trovare gli amici nel insomma nei territori alluvionati dove dove sei andato in particolare a borgo tossignano che è sopra 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 la curva dell'autodromo e la cosa più incredibile è che lì sembra quasi che non sia successo quasi nulla è vero e poi in realtà ci sono le montagne che si stanno staccando ci sono dei paesi interamente isolati completamente isolati strade devastate però sono tutte strade secondarie e terziarie per cui non se ne parla non fa notizia è vero noi noi lo diciamo monterenzio modigliano le comunità montane dell'appennino sono isolate e quello sarà un problema veramente importante perché poi in pianura dopo sono stato e la gente si dà una mano l'una con l'altra tutti col sorriso tutti contenti ma che vive in cima a una montagna con 20 animali dal latte e tutto il resto e la strada non è più praticabile hanno detto che hanno buttato via tonnellate di latte in questi giorni perché comunque gli animali devono essere munti per fortuna però non lo possono ritirare quindi guarda una situazione pazzesca alcuni stanno ancora mangiando grazie a rifornimenti che arrivano con gli elicotteri esatto è l'unico modo quindi come ti hanno accolto piero ma come voi che mi abbiano accolto sono tutte persone talmente bravi con un cuore enorme distrutti dalla stanchezza e devastati dallo stress perché le loro comunità comunque stanno soffrendo e soffriranno ancora a lungo però ragazzi lo spirito emiliano romagnolo fa culo a tutti viene botta lo spirito viene ma siete superiori viene riconosciuto da tutti è importante adesso sono arrivati due miliardi dal governo che insomma è una cifra è una cifra è una spesa molto bene ci vogliono i soldi cioè in realtà ce ne vorrebbero quattro volte tanto però cominciamo con questo cominciamo esatto intanto grazie anche da parte secondo me di tutti gli emiliani romagnoli in difficoltà per la vicinanza è proprio il minimo questi termini hai visto che qualcuno non l'ha fatto non se ne è ricordato su qualche palco importante non so che dire lo sai che cosa perdono delle grandi occasioni bravo sono d'accordo stai parlando di quello di quel amarello che è venuto amarello no per l'amarello nel senso affettuoso mi permette vengono perse delle grandi occasioni per 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 far capire a tutti quanto siamo tutti uguali siamo tutti cittadini del mondo prima di tutto siamo tutti fratelli e poi soprattutto una grande occasione per sottolineare anche il ruolo sociale che possono avere alcuni artisti no certo cioè un artista soprattutto chi ha fatto eh dell'impegno ci ha costruito una carriera soprattutto che esatto chi su su quell'impegno ci ha fatto una carriera pensate se il boss avesse detto ragazzi eh date una mano sui suoi social ci avesse detto ragazzi sono in in romagna mandate dei soldi che qui c'è un'alluvione importante ma sai quanti ne sarebbero arrivati da ogni parte del mondo ma noi nel nostro piccolo siamo belli tosti non ci ammazza nessuno ragazzi senti tu sei fra l'altro da sempre impegnato nel sociale no perché ti sei schierato contro la mafia ti sei dato da fare per sensibilizzare sul problema dell'ids contro le guerre insomma dove dove c'era bisogno di far sentire la voce da parte dell'artista ci sei sempre stato per la pace esatto c'è questa iniziativa che vale proprio per dare una mano no le persone di romagna la gente di romagna questo concerto che è stato è stato fissato il 5 di agosto all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola c'è Laura Pausini al momento risulta l'unica che ha dato subito l'adesione a questa questa iniziativa siamo in contatto siamo in contatto non mollo io ragazzi no ma io a me lo aspettavo infatti speravo di avere così qualche qualche indiscrezione però immagino che insomma ci si stia lavorando io do sempre la mia disponibilità soprattutto sul territorio anche perché Imola ha sofferto il fatto che anche il gran premio sia saltato quindi anche tutto l'indotto tutto l'indotto del territorio ha sofferto tanto quindi mi sembra giusto che il concerto per la Romagna venga fatto in Romagna in terra di Romagna senti poi ci sono i tuoi concerti perché adesso non abbiamo ascoltato questa nuova canzone perché live estremo ma perché ormai è diventato tutto estremo ragazzi ve ne rendete conto ci immaginavamo magari qualche performance incredibile sul palco una ancora più incredibile rispetto a quelle che hai fatto che ne so uno spogliarello un qualcosa che potesse davvero ma cominciato esatto intanto si è tolto il giugno ma mi vuoi subito mi vuoi subito vuoi dire tutto tutto a fare l'up dance o twerking come mi vuoi ho idea di cosa possa oramai non era in caso non era in caso se vuoi continuare qui ci sono un sacco di donne che dicono dai dai grande Piero meraviglioso ci sono diverse persone che ci scrivono che pezzo incredibile ragazzi è quello lì Serge Gensburg che genio persone che ci scrivono anche dall'Appennino e ti ringraziano tantissimo per esserti ricordato ma ragazzi ma grazie a voi di darci a tutti una lezione di vita e ce la state dando senti caro Piero di cose da dire ne abbiamo adesso poi ci torniamo sul tour perché abbiamo appena accennato la parola tour ma è finita lì dopo ci entriamo un po' più nel dettaglio perché ci sono un sacco di concerti un sacco di concerti cosa ascoltiamo c'è una canzone da sentire che è gigante poca miseria quella commentiamo ragazzi è gigante ci dicono che a Bologna in sala parto questa canzone va tantissimo spingi forte spingi forte regina di cuori Litfiba e Piero Pelù è in diretta qui con noi a Radio Bruno ciao Piero ebola ho passato gli ultimi tre minuti a sentire parlare Antonio Valli e Piero Pelù di calcio partite di pallone e discutere sulle partite di pallone partite di pallone partite di pallone è fantastica la mia mamma diceva è stato appassionantissimo per me la mia nonna diceva quando vai a giocare a pallone non ti sporca la partita di pallone citavo Rita Pavone citavo dai bello bello perché perché non mi porti a vivere la partita di pallone hai capito la citazione è alta è un po' vintage però insomma la prendiamo così ma è sempre così alla fine ma lei ci tiene e fa la snob su queste cose del calcio non è vero non è vero è che non capivo di cosa liamolo parlaste nel dettaglio senti abbiamo sentito il gigante prima sappiamo che una delle tue tre figlie ti ha reso nonno che nonno sei? che nonno sono io ho nonno fiorentino e loro dei nipotini milanesi per cui purtroppo non ci vediamo tantissimo quindi non lo acudici però domenica scorsa mia figlia li ha battezzati quindi abbiamo fatto la festa tutti insieme è stato molto carino dai abbiamo giocato il grande ha sei anni e il secondo uno e mezzo per cui sto immaginando è il diablo con il bambino ma tutti immagini no ma i diamoli sono loro mica io stai scherzando mi fanno a pezzi nonno Piero e così deve essere guai se non fosse così deve essere una cosa e i bambini devono esservi facili ascolta il bambino che è in te eh certo guai a non ascoltarlo perché crescere vuol dire rimanere se stessi ne parli anche nel tuo libro è vero o no? rimanere se stessi e soprattutto dialogare sempre col bambino che c'è dentro di noi almeno questo è il mio modo di vedere la vita ecco tutte le volte che ho dimenticato di dialogare col bambino dentro di me ho sempre fatto dei danni perché perché si diventa troppo razionali tu sei un istintivo è un modo per mantenere il contatto con l'istintività sì diciamo che ci vuole sempre probabilmente il giusto equilibrio no? tra istintività e e ragionamento però quando si diventa o troppo istintivi o troppo razionali eh almeno nel mio modo di vivere ho sempre visto che ho fatto un po' di danni cioè o mi sono inaridito dal punto di vista artistico ma anche dal punto di vista umano perché quando si va troppo di calcolo l'umanità va un po' a ramengo siamo anche emozione siamo anche istinti eh siamo molto emozione bisogna coltivare anche l'emozione lo dico in viaggio nella canzone viaggio siamo passeggeri dentro il nostro stupore e quello è importante cioè non smettere mai di stupirci di quello che ci circonda nel bene e nel male sia ben chiaro perché il mondo è veramente è complicato complicato e imprevedibile assolutamente imprevedibile a volte anche spietato sia ben chiaro però stupendo ieri ho incontrato persone stupende e quindi il mio stupore ieri si è nutrito infinitamente di energie fantastiche e quante ne incontrerai a proposito di viaggio perché prima accennavamo appunto al tuo tour il tour estremo live che parte il 7 luglio e si fa un bel giretto d'Italia e come e come quindi portando rock and roll con i bandidos i bandidos che voglio nominare se vi va vai ma assolutamente chi sono i bandidos a tutti ho dato dei nickname veramente interessanti tipo il batterista che è di Ferrara si chiama Luca Martelli ma siccome è uno che picchia come un disgraziato l'ho chiamato Luke Mitraglia ah Mitraglia Luke Mitraglia perché spara delle rullate incredibili anche se è già Martelli sì sì già Martelli era un destino Martelli Mitraglia diciamo che è uno segnato esatto comunque un ferramenteria e poi il bassista che è Black Dado si chiama Dado Neri quindi Black Dado il chitarrista che è un grande musicista perché lui suona con la banda Bardot e voglio salutare la banda Bardot che sono dei grandi amici e il povero Enriquez che ci ha lasciati un anno e mezzo fa e lui è Finaz Mister Finaz Mister Petus Finax ok e questo lo sai tu perché? allora non li addendrerei io immagino lui lo rifiuta questo nickname io ho un sospetto si deve prendere le sue responsabilità senti istinto ragione abbiamo parlato di e poi aspetta c'è il nuovo la New Entry che è il tastierista per la prima volta nei Bandidos e c'è Mister Voodoo alle tastiere che è un produttore di musica elettronica Voodoo? Voodoo felicosissimo in Olanda grande creatività quindi tante novità anche per questo Estremo Tour perché ci sono anche tante novità negli arrangiamenti delle canzoni più classiche abbiamo sentito Regina di Cuori la sentirete dal vivo come viene ma veniamo eh stavo di venire a Brescia se il genere è come per pescatore che hai l'hai sentita? è certo che sì è potente su quel genere lì allora c'è da aspettarsi qualcosa potente molto interessante tu sei uno che crede anche tanto all'influsso dei segni zodiacali ancora? ma dipende dai giorni dipende da cosa dice Loro si cambia nel tempo quello che valeva vent'anni fa può cambiare poi vent'anni ma quello è normale cambia tutto il mondo ci mancherebbe ti sei perfino sposato però esatto già chi l'avrebbe mi sono sposato però sai siamo musicisti per cui non è che siamo proprio la coppia classica niente di importante era tre uomini e una gamba Giacomo siamo comunque due musicisti quindi il nostro è un matrimonio anche spesso anche un po' per corrispondenza perché vi vedete poco quando Gianna ma sì ma credo che sia anche un po' il tocca sana di un rapporto quello di non essere necessariamente a contatto fisico strettissimo tutti i giorni anche perché io da buon acquario acquario appunto c'ho la testa che va abbastanza anch'io sono acquario come te sì ti capisco che giorno senti 14 febbraio uè io il 10 vai vai bro vamonos meraviglioso in questo clima di assoluta euforia direi che è il caso di ascoltare io ci sarò naturalmente con tutto il mio entusiasmo e ci mancherebbe e oggi è Radio Bruno la tribù di Piero Pelù faccio anche l'air guitar quello si chiama air guitar air guitar beh però sei bravino eh sì infatti almeno in quello sì l'anima del rocker senti tour estremo live 2023 abbiamo ricordato sui palchi dei festival e delle rassegne più importanti d'Italia un'estate all'insegna dell'energia del divertimento con Piero Pelù e i suoi bandidos che abbiamo anche conosciuto con i soprannomi poco fa vi ricordo esatto e tutti li hanno accettati volentierissimo sì soprattutto l'ultimo nessuno ha osato dire una muovere una qualunque eccezione tutti grande Piero ma come ti è venuta che creatività ma quanto sei fantastico sul portale soprattutto il petus mister petus sul portale radiobruno.it trovate tutte le date tra l'altro è già iniziata anche la prevendita poi manca dirlo faremo anche noi gli spettacoli Yoga Radio Bruno Estate state in giro per diverse città italiane senza dimenticare neanche nel nostro caso gli alluvionati della Romagna poi daremo più informazioni però insomma io intanto la butti lì proverei a chiedere a Piero come dicono i pescatori pastura esatto ho lanciato l'amo abbiamo quattro date ma che bella notizia vero dai carina dopo ti diamo qualche dettaglio volentieri vediamo se riusciamo a incastrare qualcosa io ho già guardato le date ha detto volentieri molto volentieri io me la scrivo perché poi non vorrei che un domani ragazzi ma c'ho da fare volentieri molto volentieri quanto del passato ci sarà in questo tour? tantissimo passato perché è giusto che sia così io tutto il repertorio di Ritfiba mi appartiene completamente mi appartiene talmente tanto che cerco sempre di migliorarlo perché la musica rispetto a come è stata fatta nei dischi è una materia viva è come un albero che cresce in continuazione e quindi cerco sempre di riplasmarla di modernizzarla naturalmente senza dover stravolgere niente dell'originale è una sfida continua anche questa estrema però sentirete guarda sono l'altro giorno abbiamo registrato in studio finalmente le prove con i nuovi arrangiamenti e la nuova produzione sonora e i pezzi sono dei sono veramente incredibili e quindi tutto il repertorio Ritfiba è mio tutto rivisitato quest'estate verrà senti Piero felicemente risuonato sul palco e rienterpretato molto felice la vita in tour è cambiata immagino un felino rispetto a qualche anno addietro hai trovato il modo per renderla come devo dire emozionante unica con meno eccessi allora intanto guido io ok uno e questo è cos'è punto numero uno guida i babboli per me è rassicurante perché è l'unico modo per scaricare anche un po' tutta l'attenzione anche stamattina insomma mi sono divertito tu guidi e è il manager di fianco notevole sì ma anche musicisti è che fanno la conta per chi non viene con me senti che sto guidando perché secondo me non va pianissimo così no allora no non è questo il trucco è non correre il Piero non è rock and roll a guidare? io sono molto rock and roll a guidare però il trucco non è correre e questo lo dico a tutti quelli che pensano che correndo no è avere una condotta di guida regolare se tu hai una velocità regolare quant'è il limite in autoscrada? tu piazzati a 130 e non li mollare mai non andare mai però non è la seconda corsia che se no crei dei problemi ma sta in quella di sorpasso in quella di sorpasso naturalmente cerca di avere una condotta di guida corretta e regolare e vedrai che le distanze te le mangi come ok però quando arriva il Q5 dell'Audi che slampa da dietro come ti comporti? ma va bene lo fai superare non è che mi piazzo lì e tiro fuori il dito medio che se ne importa però sarebbe stato divertente raccontare se sei così no vabbè poi dipende anche molto dall'atteggiamento ma è Piero Pelù aspetta aspetta faccio subito i 110 quando lo supera si mette lì ma che bella questa chiacchierata regolari regolari torni Piero quando volete siamo felici ci sono quattro giorni che potrebbero ballerini rivederci presto ce li andiamo a ballare allora tra un uomo in settimana comincia la rumba voglio ballare sempre al limite yeah grazie a Piero Pelù per essere stato con noi e grazie a voi che bella mattinata con voi grazie grazie ci vediamo presto alla prossima ciao Piero yeah grazie a tutti Grazie a tutti.